Sono 25, tanti gli anni passati dalla morte di Donato Bergamini il 18 novembre del 1989. Troppi e tanti per stabilire la verità sulla tragica fine del giovane calciatore che ha perso la vita sulla SS 106 nei pressi di Roseto Caposc Pulico o forse no. Sì, perché troppi sono anche gli interrogativi sulla precisa dinamica di una vita spezzata senza un'apparente ragione. La ricostruzione ufficiale dice che Bergamini decise di porre fine alla sua vita lanciandosi sotto un camion che transitava sulla statale 106. Ma alcune foto diramate dalla famiglia alcune settimane fa farebbero supporre una inconsistenza di queste ipotesi perché quel cadavere presentava in quelle foto tutto tranne che segni di un trascinamento conseguenziale all'impatto col pesante mezzo. Questa è l'idea di Domizio e Donata Bergamini, padre e sorella di Denis, che da quel 18 novembre tragico non si danno pace. Chiedono verità e giustizia, chiedono lumi su passaggi di quella vicenda che ancora restano buio pesto. Così come quello stesso buio è calato per 25 anni sulla vicenda giudiziaria, tra archiviazioni per suicidio e riapertura, tra le udienze disertate da due teste principali e particolari che sembrano incastrarsi male con la ricostruzione ufficiale. Oggi sono 25 anni che Denis non c'è più. È un dato sotto gli occhi di tutti che ancora vive nel ricordo di chi l'ho amato, amici e parenti, gli affetti più cari, di chi ne ha esaltato le geste calcistiche, e gli Ultras, in prima linea con la famiglia a chiedere verità. Oggi qualche varco si è aperto, oggi qualche spiraglio di luce si vede, ma 25 anni restano comunque troppi. Ma non è troppo tardi per restituire giustizia o quantomeno certezza alla famiglia e a chi Denis lo ha amato e apprezzato come uomo e come calciatore. Donato! 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 Donato!